La prima guerra mondiale All'inizio puoi dire Una delle cause è la tensione economica e politica che c'era fra le grandi potenze europee Ripeti, una delle cause è la tensione economica e politica che c'era fra le grandi potenze europee Soprattutto Francia e Inghilterra da un lato e Germania dall'altro Poi puoi dire Ciascuna di queste nazioni si era allargata oltre il proprio territorio È il cosiddetto colonialismo La Germania, che aveva meno colonie delle altre pensa bene di recuperare e di conquistarne diverse dopo aver ingrandito la propria flotta navale e rafforzato i suoi armamenti Le altre nazioni europee non gradiscono No, proprio non gradiscono Un'altra cosa la puoi dire La situazione nei Balcani nell'area che oggi chiamiamo ex Jugoslavia era particolarmente instabile Parte dei paesi balcanici infatti mal sopportavano di stare sotto la monarchia asburgica ovvero sotto il governo dell'impero austro-ungarico In quelle zone prendeva piede il nazionalismo I singoli paesi dei Balcani volevano infatti rendersi indipendenti È il 28 giugno 1914 28 giugno 1914 Chiaro? Un nazionalista serbo di 19 anni Gavrilo Princip spara sull'arciduca Francesco Ferdinando erede al trono e su sua moglie Sofia che stavano in visita ufficiale a Sarajevo Li uccide e provoca la crisi diplomatica che conduce alla guerra neanche un mese dopo È la fine di luglio del 1914 La prima guerra mondiale inizia con questi schieramenti Germania e Ausia-Ungheria contro le nazioni della cosiddetta triplice intesa cioè Francia, Inghilterra e Russia in più Serbia e Montenegro Poi il conflitto si allarga Al fianco della triplice intesa si schierano il Giappone e un anno dopo, come ho già detto, l'Italia che rompe la precedente alleanza con Germania e Ausia-Ungheria Nel 1917 entreranno poi anche gli Stati Uniti E così è chiaro perché parliamo di guerra mondiale Fino ad allora i grandi conflitti fra le potenze occidentali erano rimasti infatti dentro i confini europei Allora, l'ha imparata? E in caso contrario ripassa da qui Ripassa da noi Allora, l'ha imparata 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 da noi